La Procura di Roma ha chiesto un rinvio a giudizio per l'uomo che nell'ottobre dello scorso anno ha aggredito violentemente l'immunologo Francesco Lefoche, 65 anni, nel suo studio medico. L'udienza davanti al Gubb della Capitale è stata fissata per il prossimo 17 luglio. Secondo quanto emerso da una perizia psichiatrica disposta dal Tribunale, l'indagato può affrontare il processo anche se è stata riscontrata una diminuita capacità di intendere di volere al momento del fatto. Lefoche, responsabile del reparto di immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I e medico in prima linea durante la pandemia, venne colpito al volto dal suo paziente che gli procurò gravi ferite a un occhio. A salvare l'immunologo assistito dall'avvocato Giuseppe Belcastro fu l'intervento di un agente di polizia libero dal servizio che fu richiamato dalle urla che provenivano dallo studio medico di Via Po nel quartiere Salario.